Buon favore! Qualchi piedi! C'è bisogno di assistenza! Forze nemiche all'orizzonte! Incrociatore nemico individuato! Avvistato cacciatore pediniere nemico! Avvistata corazzata nemica! Incrociatore nemico individuato! Caccia di ritorno! Corazzata nemica individuata! Generatore di fumo avviato! La nostra squadra è in vantaggio! La nostra squadra è in vantaggio! La nostra squadra è in vantaggio! Siluria prua! Sì! 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 La nostra squadra è in vantaggio! 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 Grazie a tutti. 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 Our team. Grazie a tutti. 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 Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.